eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questo appuntamento giornaliero non è finita ragazzi dopo questi giorni di tantissime polemiche in merito ai server ai lag ai problemi di framerate ai problemi con le armi e tanto altro ancora nuove polemiche arrivano dalla community addirittura con una petizione in merito ad un perk molto interessante all'interno di black ops 4 stiamo parlando di sangue freddo vi spiego bene qual è tutta la storia facciamo un passo indietro vi ricordate questo perk nei precedenti call of duty quanto cavolo era forte e ci permetteva di sfuggire praticamente alle serie di punti sangue freddo infatti se viene equipaggiato lo troviamo nel secondo slot su black ops 4 dovrebbe difenderci per sempre e in maniera veramente molto importante da tutte le score streak cioè non dovremo essere visti dalle score streak vi ricordate nei precedenti call of duty quando lo utilizzavamo ad esempio se passavamo davanti a una torretta quella non ci sparava se praticamente c'era un elicottero non venivamo colpiti e via dicendo bene sangue freddo su black ops 4 funziona in maniera completamente diversa e lo youtuber the exclusive ace ha deciso di fare un video proprio per analizzare nel dettaglio come funziona sangue freddo ha dichiarato che praticamente questo perk in black ops 4 è completamente diverso rispetto ai precedenti call of duty infatti utilizzandolo otterremo una maggiore resistenza contro le serie di punti ma non un'immunità completa come accadeva nei precedenti code ad esempio l'rcxd il mantis il thrasher il gunship e tutte le altre serie di punti funzionano nello stesso modo anche se stiamo utilizzando sangue freddo quello più sicuramente rompiscatole lrcxd che praticamente ci viene a uccidere senza problemi quindi è come se quell'abilità in alcuni casi è praticamente inutile come se stessimo utilizzando uno slot in maniera del tutto impropria quindi come funzionerebbe su black ops 4 sangue freddo rispetto ai precedenti code ci dà soltanto una sorta di secondi bonus un paio di secondi per riuscire a sfuggire alle score trick ad esempio se passiamo davanti a una torretta avremo bersagliati un paio di secondi dopo rispetto agli altri per riuscire a scappare e quindi questo perk non offre i vantaggi che i giocatori si aspettavano soprattutto avendolo provato nei precedenti call of duty e chiede un miglioramento un potenziamento di questa specialità bene neanche il tempo di parlarne che su reddit.com è nata una vera e propria petizione avete capito bene è stata fatta una petizione sul forum di reddit.com dove si chiede che sangue freddo venga aumentato venga potenziato dalla trayarch il prima possibile soprattutto perché si viene uccisi con questo perk attivo addirittura dal missile hellstorm che ci indica sulla mappa nonostante lo abbiamo utilizzato ebbene la risposta della trayarch è stata veramente molto interessante questo post ha raggiunto i 230 commenti e la trayarch ha dichiarato che si è segnata ha firmato questa petizione e aspettatevi un cambiamento a breve appunto di questo perk così finalmente si potrà utilizzare come lo avevamo in passato veramente una cosa molto interessante e molto curiosa ma sono contento che la trayarch sia rispondendo in tempo reale alle esigenze e alle critiche della community per migliorare sempre più black ops 4 qui sotto nei commenti fatemi sapere voi che cosa ne pensate di tutta la questione se avete anche voi qualche critica costruttiva e su cosa la trayarch deve lavorare per migliorare black ops 4 lasciate un bel mi piace per supportare il tg informativo di call of duty e noi ci vediamo ad un prossimo video